Nel paese di Espino, quando ci fu la battaglia, i miei compagni di moriremene. Moriremene, mica fuori 13, i miei compagni. Quando è ferita la guerra, come io, come tutti. Io di Espino, io e un altro mio compagno, a Fedi partivo. Partivo il 27 aprile, ho raggiunto il Reggio Calabria il 12 giugno. Un momento non è andato a partigliano, si trovo conto che dopo, questo di aprile, che ne andiamo a riunirlo. Ma essere a partigliano è una vita desgraziata però. Un momento più bello è stato per ammazzare Mussolini, perché lui per il suo sbaglio si è fatto ammazzare. Saremmo a sabato prima, era meglio. Mussolini non mi ha bastato, era. Questi che hanno da grano, mi hanno appunti ad altri. Ho avuto avversari di queste gente ricche, che mi sono andata, e ho avuto profettare del mio lavoro. Non ho cambiato altri partiti comunisti del Pai Stato. I fascisti erano contro di me. Poi il Cristo lo soppeghetto quello che ha fatto. L'Italia ha bisogno direttamente di partigliano. A presto. 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 A presto.